Siamo giunti alla quarta, una quattro anni sul miglio, non corre zucchero model, rimangono in undici, netto favorito, Zelig B, Marcello Vecchione, Insalchi, mezzo meccanico in movimento. Undici, quattro anni, miglio, quarta del convegno, allineamento che gradatamente va a completarsi. Arretrati Zodandaghi e Zorromibi, numero sette e numero otto, prende velocità la macchina. E si lotta per il comando all'attacco della piegata, con all'argo di tutti, cerchi di andare al comando, zio Carlo getta, la cosa avviene, all'attacco della piegata. Poi Zaira SM, il lancio in tredici e uno, e zio Carlo al comando, dopo un violento strappo, in terza posizione, Zayston AS, a precedere Zeus Thor. Ci completa il quarto iniziale, nell'ordine del ventinove. Viene subito via gradatamente il favorito Zelig B, che risale la comitiva. Zelig B punta in avanti. Si va dopo 600 metri di gara, i 600, nell'ordine del 44,2. E così Zelig B va a diretto contatto con il leader. Ci completa il mezzo miglio iniziale. Mezzo miglio, che se ne va nell'ordine del 59,7. E cavalli che affrontano il penultimo rettilineo. Zelig B è al salchie di zio Carlo, che riparte e mantiene il comando. Il chilometro gestito in uno, 13,6, 13,9 di frazione. E i due prendono un netto vantaggio. I cavalli affrontano la curva finale, torna alla carica. Zelig B, zio Carlo tenta di difendersi. 13,7 fanno uno, 27,3, tre quarti di miglio. L'errore, l'errore di zio Carlo. Free way, non ha dato tregua. Marcellino pane e vino con il suo Zelig B, non ha dato tregua. E vuole anche un ottimo riferimento cronometrico. Viene via la grande Zodandaghi. E Zodandaghi dovrebbe raccogliere la seconda moneta nei confronti degli altri che aspettiamo. Dovrebbe essere Zeyston A.S. Ma aspettiamo il giudice d'arrivo. Uno, 57,2. Uno, 13,3. Un vero numero di questo Zelig B che veramente ha macinato lo zio Carlo, che è rimasto veramente un po' acciaccato dopo gli strappi violentissimi dati da Zelig B. Zelig B, una vera creazione di Marcello Vecchione. In arte, Marcellino pane e vino. È tutto, linea allo studio. Grazie. 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 Grazie.